Se sei come me, non te preoccupa, alla vita è meglio tagliere il culo, canta insieme a me, li possino, non c'è sta pensè, quelli sono fatti apposta, però per fatti amarti, non te... Sto dicendo, ma quella azione è difficile da fare... Non vengono, quando vuoi ragazzo? Secondo me è un tipico caso di astrucci sacrope. No, ma che scherzi, secondo me è un caso di sciatica precoce. Dici? Sì. Ma comunque è semplice, ora andiamo a domandare e vediamo chi ha ragione. Adesso, allora. Scusa Giovanni, ti possiamo fare una domanda? Sì, ma che hai una forza sagrada? No. Allora è una sciatica precoce. Una sciatica precoce? Mentre. Siamo sbagliati tutte e due. A parte, siamo sbagliati tutti e tre. Perché? Sì. 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 No, può capitare di fare cazzate. La vera domanda è, che cosa stai aspettando? Seguimi anche su Instagram. Il vostro support lavora sempre per voi. Sì. 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 Sì.